che utilizzerò è un ghibli, lo comprai nel viaggio in Marocco dopo mille giri per trovare uno strumento di qualità e alla fine arrivai in una casa di un anziano musicista e alla fine comprai il suo personale, me lo vendete quindi, ora è una parte molto tronco diciamo d'albero vuoto con una pelle di capra quindi con l'umidità la pelle assorbe tutto la pelle assorbe la pelle assorbe tutto la pelle assorbe tutto la pelle assorbe tutto No 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 S Grazie a tutti.